Allora, vorrei provare con te oggi un esperimento molto molto interessante. Come vedi, su questa lastra sono stampati i dorsi di un mazzo di carte, 52 carte. Adesso vorrei che tu mi dicessi una carta, la prima che ti viene in mente. La Codicuori. Codicuori? Sì. Vuoi cambiare? No. Ok, naturalmente qui c'è la Codicuori, però non possiamo sapere in che posizione si trova. Ok. Dimmi un numero, adesso, compreso tra 1 e 52. 16. 16? Sicura? Sì. Ok. Quindi Codicuori è 16. Giriamo questa lastra, così. E come vedi ci sono tutte le carte di faccia adesso. Mettiamo questi numeri per facilitare la ricerca. Siamo sia sopra che sotto. Ok, quindi mi ha detto Codicuori è 16. Andiamo a vedere il numero. Quindi 16. 16, sì. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto. E al 16 c'è esattamente la carta che tu hai scelto.